Occhi puntati sulle infrastrutture, in particolare i cavalcavia in territorio di Paternò. Da questa mattina sono in corso alcuni sopralluoghi dei vigili del fuoco del distaccamento paternese, supportati dai colleghi arrivati con l'autoscala proveniente dal comando provinciale di Catania, insieme a loro i tecnici della Publi Servizi per la città metropolitana e i tecnici ANAS. Due i cavalcavia finiti sotto la lente di ingrandimento. Si tratta del ponte di Currone di Contrada-Porrazzo sulla 284, la Paternò-Randazzo. A richiedere l'intervento il comune di Paternò, dopo alcune segnalazioni arrivate da alcuni automobilisti al comando dei vigili urbani. In particolare era stata segnalata la caduta di Calcinacci, situazione che ha subito fatto scattare l'allarme. Organizzati i sopralluoghi, l'intervento è stato effettuato per verificarne le condizioni di sicurezza, da capire se ci sono pericoli, non chiaro se la situazione riscontrata permetterà comunque la fruizione delle due importanti infrastrutture o se sarà necessario chiudere al transito in attesa degli interventi. A determinare i problemi potrebbero essere state le abbondanti piogge di questi giorni che potrebbero aver determinato pericolose infiltrazioni di acqua e dunque problemi nella staticità dei due cavalcavia. E c'è un altro cavalcavia che invece sembra essere stato dimenticato dalla città metropolitana. Si tratta del ponte lungo la SP15 che attraversa dall'alto la statale 121, la Paternò-Catania. Sempre la città metropolitana dovrebbe intervenire a Pietralunga dove il ponte lungo la SP228 è stato interdetto al transito perché pericoloso. Un ponte che continua ad essere attraversato quotidianamente da decine di mezzi visto che è l'unico passaggio possibile per gli agricoltori e gli elevatori della zona oltre ai tanti amanti della cultura e della natura che arrivano a Pietralunga sulle sfonde del Simeto per ammirare i resti del ponte romano e la recente scoperta del possibile attracco sempre di epoca romana.